Intanto andiamo a vedere che spettacolo è stato, soprattutto il gol, contro l'Inghilterra per capire anche questa sera come potrà giocare l'Italia contro l'Ungheria. A te, Nicola, per la lavagna tattica. Sì, eccomi Valeria. Analizziamo due situazioni in maniera molto veloce della partita dell'Italia contro l'Inghilterra. E quello che dicevo prima, l'Inghilterra è stata una squadra molto statica, poco dinamica e lo vediamo in questa situazione, in questo fotogramma. Quattro contro un giocatore riescono a prendere gol. E quindi qui abbiamo visto la strategia dell'Italia. Conoscendo che l'Inghilterra sarebbe stata una squadra molto statica, soprattutto dietro per stats e per caratteristiche dei difensori, ogni tanto provava a fare questo calcio diretto. E quindi Raspadori con le sue caratteristiche poteva mettere in difficoltà questa difesa. E così è stato. Ma la cosa che mi preme puntualizzare in questa foto è che nel momento in cui ci sono delle superiorità numeriche in mezzo al campo e soprattutto in questa zona di campo, guardate come si comporta la linea difensiva dell'Inghilterra. Nel momento in cui abbiamo sempre, per quanto mi riguarda, per come vedo il calcio io, una netta superiorità numerica, nel momento in cui un giocatore avversario stoppa la palla, deve essere, io dico sempre, affondato. Cioè, se ho un due contro uno, qui non bisogna mai più temporeggiare. E quindi bisogna affondare, bisogna andare a tutti i costi a rubare palla. Così l'Inghilterra non ha fatto. E ha dato l'opportunità a un giocatore, pur essendo in netta inferiorità numerica, essendo bravo negli ultimi 16 metri da Raspadori, di fare un grandissimo gol di qualità, di tecnica e di velocità nel girarsi. E quindi abbiamo assistito a un grande gesto tecnico, ma allo stesso tempo a una grande precarietà difensiva dell'Inghilterra nei suoi difensori. Questa è una delle particolarità che ho visto. E l'altra è che qui entriamo nell'Italia, entriamo nelle nostre caratteristiche, come noi sappiamo difendere. E per noi è un pregio, è un vantaggio in ogni situazione, perché siamo bravi, abbiamo talento. Guardate un attimo come l'Italia si presta a difendere su una transizione e quindi a un attacco dell'Inghilterra. Con Kane che punta, punta la linea difensiva. Guardate la posizione di Bonucci e quella di Acerbi. Allora, qui in questo caso Bonucci è molto bravo a restringere a livello periferico la vista periferica di Kane e lo porta solo in un angolo per potergli dare sempre meno spazio di guardare alla porta, ok? E quindi alla fine lui calcerà dal limite dell'area. Ma guardate qua, qua invece in questa posizione, tecnicamente analizzando sia il difensore che l'attaccante, ci potrebbero essere due errori. Uno nella posizione del colpo di Acerbi che guarda la palla, non guarda l'avversario. E l'avversario, accorgendosi del fatto che Acerbi non lo può guardare in una palla filtrante, stringe verso di lui invece di fare un movimento ad allargarsi per poi entrare dentro la linea. Così facendo avrebbe permesso a Kane di dare una palla in profondità e Acerbi, girandosi al contrario, avrebbe perso di vista la palla e l'avversario. Quindi questi sono dei particolari che ho notato e degli accorgimenti che si possono fare a livello tecnico dei giocatori. E quindi per chi è a casa e vuole capire un po' di più di calcio, di tattica, anche individuale, questo è un bellissimo esempio. Ovviamente grande merito all'Italia per quello che poi è riuscito a fare in questa partita e a limitare il più possibile degli attaccanti molto pericolosi. Grazie. Grazie.